Con questo numero di Canale Mod vi portiamo per mano a vedere le sfilate presentate a Milano per la primavera estate 84. Ve le presentiamo però in una maniera ragionata, non casuale, suddivisa quindi per temi, tanti temi che sono quelli che fanno tendenza 84. I punti che contano sono quindici, sembrano tanti, troppi, invece vuol dire che nella moda c'è fantasia, nella moda italiana non c'è noia. Grazie a tutti.